Roberto e Giacomo sono già diventati due punti fermi di questa azienda. Fino a due anni fa nessuno se lo sarebbe mai aspettato. I motivi sono sempre gli stessi. Anche se non ha laureato in ingegneria, tutti ti dicono sempre Ma dove credi di andare senza esperienza? Senza neanche avere più l'età per le agevolazioni? Senza fondi per aprire un'attività? Qui le soluzioni erano due. O si costruisce una macchina del tempo O provi a vincere al Super Ennalotto Perché i corsi per diventare termoidralici ci sono, ma non tutti possono permetterlo. Poi nel 2015 è capitata l'occasione per dare una svolta. Con Formart siamo riusciti a trovare degli operatori termotecnici con la formazione di base e questo per la nostra azienda è stato fondamentale per la crescita. Grazie al Fondo Sociale Europeo e alla Regione Emilia Romagna che hanno finanziato il corso per operatori termoidraulici abbiamo potuto contare su operatori qualificati. A oggi Roberto e Giacomo lavorano qui presso Baroni Gruppo di Molinella Bologna. E ormai è diventata come una seconda casa. Siamo una grande famiglia.